Il prossimo corso è il Benzistruciore di Milano. Siete viscono con la Emerald Praise to our God, di Etesia, Vado. Facciamo un applauso di un applauso di un'applausi. Il progetto di salute di Abobo nasce come un centro di salute costruito dal governo dell'Etiopia anni fa e poi rimasto abbandonato fino a che un gruppo di medici decide di prendersene a carico la gestione e la salute del distretto. Abobo è una cittadina di 3.000 abitanti, situata nella regione di Gambella all'ovest dell'Etiopia al confine col Sudan, a 800 km di distanza dalla capitale Addis Abeba. A differenza dell'altipiano etiopico, il Gambella è una zona bassa, con un clima caldo e umido e una temperatura media annuale di 31 gradi che aumenta gradatamente da gennaio ad aprile fino a raggiungere i 48-50 gradi nei mesi più caldi. Abobo dista 48 km dalla capitale Gambella ed è raggiungibile da una strada sterrata che diventa difficoltosa nella stagione delle piogge. Non c'è né luce né telefono. La popolazione è costituita da gruppi etnici diversi, di origine sudanese, molto diversi tra loro per lingua e cultura. Accanto a questi gruppi etnici convivano comunità di etiopici provenienti dall'altipiano deportati da altre aree sovrappopolate durante il periodo della carestina nel regime politico precedente. Il progetto di Abobo è un centro sanitario al servizio della zona, sotto la responsabilità della Chiesa Cattolica. È impegnato in molteplici attività nel campo curativo, preventivo e di animazione comunitaria e promozione della salute nei 18 villaggi circostanti. I beneficiari diretti del progetto sono 20.000 abitanti della zona e 200.000 i beneficiari indiretti, la popolazione dell'intera regione. di un'intera regione per la regione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.